ciao da absim non c'è riuscito neanche il portogallo con grandi demeriti adesso toccherà alla spagna far fuori la francia per il calcio per il calcio queste battaglie che sorgono così quasi estemporanea per noi che difendiamo i valori del calcio per noi che vogliamo il calcio buono il buon calcio il bel calcio e c'è sempre una bella battaglia da affrontare allora con vivacità con entusiasmo la prendiamo la prendiamo bene e andiamo avanti perché alla fine la francia perderà e deve perdere e ha già perso e non può che perdere e non si può fare il tifo per questa francia poi chi fa il tifo per la francia avrà le sue ragioni ma inevitabilmente è un tifo conflittuale con un conflitto interiore perché non riesci non riesci a farti piacere la francia di the champ non riesci a essere in pace con te stesso nel fare il tifo per questa francia i francesi naturalmente la sostengono comunque magari sono anche soddisfatti ma non sanno cosa si perdono non sanno che hanno già perso e non sanno cosa si perdono si perdono il buon calcio si perdono la voglia di conquistare il pallone la voglia di fare delle azioni vere coinvolgendo i giocatori facendoli esprimere al meglio delle loro qualità e delle loro caratteristiche non per il semplice andare a fare gol in qualunque modo o comunque non perdere se l'obiettivo nello scendere in campo per il calcio è non perdere meglio stare a casa meglio smontare tutto smettere di investire milioni di euro e di impegnare milioni persone nel mondo forse anche miliardi un miliardo un paio di miliardi chissà complessivamente tra tutti quelli che seguono il calcio nel corso di un anno e per fare che cosa per fare che cosa per questo spettacolo indecoroso la francia supera cinque partite passa oltre cinque in cinque partite tre turni in effetti perché il girone ottavi e quarti arrivando in semifinale dell'europeo segnando tre gol che sono un autogol e due rigori o due autogol e un rigore comunque zero zero gol su azioni qualcuno precisa sì ma anche concesso zero gol su azioni ah beh scusate tanto però il punto è proprio quello com'è possibile per le squadre che la francia ha affrontato che nessuno sia andato a distruggere la francia naturalmente come nazionale in campo perché nessuno è andato contro la francia combattendo contro questo non calcio contro questo anticalcio e allora vedete che rivivono discorsi che qui abbiamo fatto per lungo tempo perché la juventus usurpata quando era sotto usurpazione non veniva distrutta dall'avversario perché pochissime squadre due forse una di queste è il benfica un'altra il vigliareal pochi altri sono andati contro quella squadra contro quella non squadra contro quell'anticalcio combattendo una battaglia che non era solo per la singola partita ma è che era per il calcio nella sua integrità e guardate che la minaccia al calcio nella sua da una piccola parte in una piccola zona del suo confine della sua membrana protettiva è un attacco a tutto il calcio nella sua nella sua integrità nella sua interezza quindi bisogna difenderlo tutti insieme da questi attacchi da questi microattacchi che poi è un paradosso perché parliamo di anticalcio che l'attacco non sa cosa sia un bappé bappé che giocatore è che giocatore è stato in questa partita contro il portogallo perché continuare o continuare e ostinarsi a metterlo in campo a tenerlo in campo tutta la partita quasi ecco almeno de champ l'ha tolto a un certo punto mentre martinez ha tenuto un cristiano ronaldo inguardabile inutile anzi nocivo dannoso per la manovra del portogallo e non si può fare altro perché perché questo calcio non ci piace non lo vogliamo ma diciamolo forte non lo vogliamo in che senso nel senso che se tu sei cristiano ronaldo e muovi un sacco di milioni e sei in bappé muovi un sacco di milioni e l'interesse di milioni di persone te lo devi meritare sul campo ogni minuto a ogni minuto io non ho mai seguito il basket men che meno l'nba e quindi non so se è un racconto postumo intriso di retorica ma pare che mj michael jordan dicesse l'abbia detto anche nella serie netflix su di lui che dal suo punto di vista quando giocava una partita era potenzialmente la prima ed unica partita che qualche singolo spettatore nell'impianto nel palazzetto guardava che lui giocasse quindi doveva dare il massimo ogni singola partita in ogni singolo secondo per onorare quel singolo spettatore che non l'aveva mai visto e che non l'avrebbe mai più visto dal vivo questa è un'altra mentalità invece no qui abbiamo io sono cristiano ronaldo che poi in realtà non si adagia mai tanto sugli allori sugli allori e che proprio non ce la fa più ma soprattutto lui sì che si adagia sugli allori e pensa di essere chissà chi io sono un bappé e quindi disastro e quindi vai a mancare di rispetto a tutta la gente che ripone grandi aspettative su di te ma poi dobbiamo chiederci anche e quindi dicevo questo calcio non ci piace questo calcio dove contano i milioni dove non puoi evitare di mettere in campo determinati campioni anche se non lo dimostrano evidentemente anche le oltre alle convocazioni gli schieramenti in campo sono condizionati condizionati da cosa condizionati da psicologicamente proprio da tutta questa gente che segue cosa penseranno di me avrà pensato de champ o gli avranno anche detto se non metto un bappé la gente se lo aspetta in campo io non ho il potere come commissario tecnico come allenatore di dire no tu non giochi perché non sei al top perché faresti una brutta partita chi se ne frega allora guardiamoci intorno ne abbiamo già parlato euro 2024 fa schifo continua a fare tendenzialmente schifo anche se poi comunque magari vedi spagna germania e ci auguriamo qualcosa di buono anche oggi tutte le partite le due partite di oggi tra l'altro su juventus tv cronaca live non perdetevela ieri abbiamo fatto veramente non stop grazie anche a marco di juventus tv per queste due partite spagna germania e portogallo francia e ringraziamo ci hanno portato i supplementari portogallo francia pure ai rigori proprio della serie vi vogliamo stancare vi vogliamo sfinire vi vogliamo sfibrare però non ci piace questo europeo nella misura anche in cui oltre a non giocare come tanti giocatori potrebbero fare tante squadre che sono in campo potrebbero fare ma non le esprimono sembra proprio ci sia questa ricerca specifica dell'anticalcio del non calcio del purché si vinca del purché si vinca allora è questo che va abbattuto ma noi serenamente abbiamo già vinto e dicevo la francia ha già perso anche dovesse vincere l'europeo perché nessuno nessuno riuscirebbe veramente a gioire per la francia campione d'europa a parte qualche francese cioè non si riuscirebbe a generare empatia mentre per esempio se vince la turchia l'europeo e forse molti di più solidarizzerebbero andrebbero di empatia per una turchia che ha fatto un grande europeo ma possiamo dire anche la svizzera ma a questo punto possiamo dire anche in buona parte la spagna però se vince la francia chi è felice no è un disastro è come quando il real madrid vince la champions league con la differenza che il real madrid la champions league anche con qualche mezzuccio anche con qualche scorrettezza anche con un po di anticalcio e un po di fortuna se la gioca cavolo se se la gioca qui stiamo parlando del calcio minimo meno che minimo cioè una nazionale forte come la francia che ha due squadre qualcuno rimasto anche a casa tra cui kefren turam per esempio due squadre e qualcuno rimasto a casa va in campo a non giocare sistematicamente un intero impianto di squadra messo al servizio degli strappi solitari di mbappé dembélé quando sono in campo palla mbappé ci pensa lui palla dembélé ci pensa lui al massimo scarichiamo sul terzino che puntualmente non crossa torna indietro giropalla orizzontale attraverso i centrocampisti nessuno smarcamento nessuna imbucata nessuna proiezione di gioco nessuno schema nessuna triangolazione e vediamo un po che pallone passa che giocatore riesce a dribblare magari e questo sarebbe un allenatore de champ le champ ha finito ma ha finito da ere geologiche ha finito nel calcio nel calcio e nella francia quindi l'augurio di tutti perché poi questo anche un tema psicologico importante quando hai un nemico tu vuoi veramente che il tuo nemico diventi tuo amico e cioè vuoi convertirlo così da risolvere il tuo conflitto o vuoi mantenere attivo quel conflitto perché ci godi che hai un nemico da contrastare allora superiamo queste barriere il nemico in questo momento è la francia ma noi dobbiamo augurarci che la francia smetta di essere così non che continui a fare questo allora magari la prossima partita la francia cerca di giocarsela e un minimo un minimo ci fa ricredere ma quante speranze ci sono e quindi torniamo al discorso dobbiamo chiederci perché tante nazionali giochino così male in questo europeo e vogliono giocare così male però poi alla fine ce n'è una ce n'è una soltanto di nazionale che va a sintetizzare tutti i disvalori dell'anticalcio che è la francia di deschamps un nemico da abbattere ma si abbatterà da solo perché il fatto di aver superato il portogallo con de meriti anche da parte del portogallo e vorrei fare uno spunto a parte su questo considerando che ieri hanno smesso di giocare cross e anche pepe ma devo dire che pure cristiano ronaldo ci va veramente vicino però vuol dire che allora si andrà avanti e quindi per la francia sarà più bruciante l'eliminazione se arriverà in semifinale contro la spagna augurandoci che la spagna giochi come non ha giocato contro la germania cioè per distruggere l'avversario perché la spagna aveva vinto si è abbassata troppo si è abbassata troppo lasciando stare l'arbitraggio terribile si è abbassata troppo ha preso gol ma va incredibile e hai visto evidentemente devi continuare ad attaccare quando sei in vantaggio e stai vincendo invece ti abbassi troppo e prendi gol e vai supplementari poi passi lo stesso ma comunque rischiando tantissimo rischiando tantissimo germania ha creato tantissimo e poteva finire in tanti altri modi quindi la spagna dovrebbe finalmente cercare un calcio di dominio per annichilire come non fu fatto con la juventus usurpata dell'incompatibile annichilire la spagna e tutti noi contro la francia deve andare in campo per affermare il calcio per affermare il buon calcio distruggendo l'anticalcio non è solo una partita non è solo una semifinale non bisogna vincere bisogna stravincere stravincere se non sarà la spagna sarà la finalista e se non sarà neanche la finalista la francia avrà comunque perso avrà tolto ogni valore ad un europeo orribile e anzi da un certo punto di vista sarebbe anche perfetto se lo vincesse la francia perché questo europeo di così bassa lega non può che essere vinto in realtà proprio dalla francia per un discorso di legittimità per un discorso di valori per un discorso di livello quindi proprio per un discorso di valori noi abbiamo già vinto come sempre perché usciamo dalla dualità ecco perché abbiamo già vinto perché non ce ne frega il punteggio non ce ne frega il risultato non ce ne frega il trofeo ci interessa vedere e godere di un buon calcio nel rispetto dei tifosi che impegnano tempo e soldi nel rispetto di uno sport che è ultra secolare non dimentichiamolo e che è nato come sport offensivo come gioco d'attacco è nato così ed è andato ed è progredito per decenni così per oltre un secolo probabilmente o circa un secolo poi il disastro la distruzione difensivista arrivano nei decenni recenti anni 70 80 probabilmente prima forse si giocava molto più a viso aperto ecco diciamo anche questo per chi ha memoria per chi insomma ha letto qualche testo perché pochi di noi c'erano che potrebbero che possono testimoniarlo e allora per quello che è la natura di questo sport con o senza i campioni che a volte offendono il calcio più dei giocatori tra virgolette normali bisogna semplicemente bisogna semplicemente giocare bene a calcio giocare bene a calcio ed è quello che cerchiamo di difendere quindi aggiungo quest'ulteriore spunto di riflessione sull'europeo avendo guardato e sopportato queste partite gli errori del portogallo sono stati soprattutto di scelte in campo ripeto cristiano ronaldo non può rimanere in campo 120 minuti anche se è rigorista fenomenale e comunque lo stava sbagliando e rinunciare a giocatori che aveva martinez in panchina che sarebbero stati più funzionali allora qui ancora vedi tu vuoi giocare per vincere la partita o vuoi giocare per non perdere e quindi la porti ai rigori vergogna 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 anche al portogallo vergogna anche a martinez però chiediamoci perché ripeto questi ct sono così apparentemente condizionati psicologicamente dal pensiero della massa dal pensiero dei mass media dal pensiero degli sponsor e dalle esigenze degli sponsor chi se ne frega chi se ne frega tanto per dire ci siamo goduti un meraviglioso franzisco con sesao un meraviglioso danielmo per fare due nomi un meraviglioso nuno mendes che poi non sa crossare non sa tirare ma ha giocato una partita fenomenale e chi è nuno mendes rispetto a cristiano ronaldo franzisco con sesao rispetto a mbappé quindi evidentemente il calcio c'è dove c'è il calcio non dove ci sono dei nomi che presuntivamente richiamerebbero il calcio allora lo sforzo di ognuno di noi è quello di valorizzare come sempre chi gioca bene a calcio chi porta rispetto per il pubblico e soprattutto di evitare proprio noi per primi di creare queste etichette di mbappé di cristiano ronaldo se lo devono meritare ogni secondo mbappé sono io siete voi nella misura in cui pretendete da mbappé che faccia mbappé quindi il livello di esigenze di mbappé lo determiniamo noi non è lui a cui siamo prostrati come divinità del calcio che sa fare chissà cosa lo deve conquistare dimostrare ogni minuto ogni secondo pretendiamolo non costruiamo non non cediamo a queste etichette da social e se possibile chiudiamo instagram e tiktok che fanno più male che bene a chi è appassionato di calcio e non solo grazie per la vostra attenzione ci vediamo molto presto tanti link in descrizione da seguire per da osservare per seguirmi su tutte le piattaforme vi ricordo e anche questo episodio segue pure questa 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 novità che sono anche su spotify potete guardarmi e anche solo ascoltarmi per quanto riguarda i miei video principali anche su spotify grazie per la vostra attenzione ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore per quanto riguarda i miei video ciao Grazie.